Eccoci qua ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Dopo il caldo che è durato però solo tre giorni, le temperature così come previsto si sono abbassate. Si sono abbassate perché vedete questa massa d'aria piuttosto fredda sull'est Europa pian pianino è scivolata verso le regioni anche meridionali, non solo sulle regioni centrosettentrionali italiane. Ci sarà venerdì un generale miglioramento, ancora molte nuvole sull'eccese, soprattutto sull'eccese centro-meridionale. Gli ultimi piovaschi ma vedete sfileranno nel corso della mattinata verso l'Euca e a largo di l'Euca, quindi tenderà a migliorare. Infatti poi nel pomeriggio ulteriore miglioramento con cielo sereno o al più poco nuvoloso ancora verso il capo di l'Euca o su zone ioniche e in serata cielo sereno stellato dappertutto. Quindi questa perturbazione pian pianino si sposterà sempre più verso sud ed abbandonerà già nel corso della mattinata il nostro territorio. Avanzeranno aperture del cielo, il vento grecale a tratti moderato, quindi capite bene, nonostante il miglioramento le temperature saranno piuttosto freschine, freddine. Temperature, guardate, minime, qui c'è un errore, comprese tra i 6 e i 10 gradi centigradi. Quindi le temperature massime invece comprese tra i 16 e i 20 gradi, quindi di notte e al primo mattino farà piuttosto freddo. È tutto, buon proseguimento di giornata.